Ci siamo quasi, il progetto Follia Musicale è pronto per mostrarsi e se ci siamo riusciti è grazie a voi tutti e ai vostri contributi. Grazie a voi che avete contribuito, grazie alla Giovine Orchestra Genovese, nello specifico grazie alle collaboratrici e ai collaboratori, grazie alla Compagnia di San Paolo, grazie a Rete del Dono, grazie alle istituzioni, grazie al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, grazie al Comune di Genova. Un grazie particolare va all'ex ospedale psichiatrico di Quarto, che è un luogo straordinario che ospita pazienti in terapia insieme ad una fitta rete di volontari impegnati in attività, laboratori e numerose iniziative di integrazione accompagnate da eventi culturali, in particolare grazie al coordinamento per Quarto Quarto Pianeta e al suo portavoce Amedeo Gagliardi. Insomma, un enorme grazie davvero a tutti voi e adesso vi aspettiamo numerosi al primo capriccioso concerto per ricordarvi poi anche gli impegni futuri. Grazie per il sostegno, grazie per essere stati così folli da credere in noi.